Siamo con il vicepresidente avvocato Bruno, ottimo risultato, un'annata storta, dicevamo a microfoni spenti, ma mi sembra che oggi la Paolana abbia dimostrato che forse questo campionato poteva e può comunque andare diversamente, ci sono ancora 30 punti in palio. Il campionato è ancora lungo e noi faremo tutto il possibile fino alla fine per tentare di acchiappare questa salvezza, perché riteniamo di non avere una squadra che meriti il terzo e ultimo posto in classifica. Purtroppo, lo dico da diverse settimane, è una stagione veramente maledetta. Oggi abbiamo fatto un ottimo risultato contro un reggio mediterraneo, credo ben attrezzato, con giocatori di grande qualità. Siamo venuti qui per fare la nostra partita, perché tentare di ritornare a casa con un punto sarebbe stato assolutamente inutile. Penso che il primo problema l'abbia creato la società, perché non siamo partiti organizzati come dovevamo partire, abbiamo confidato molto su un organico di base dell'inizio campionato e lì credo che abbiamo commesso degli errori. Siamo con il direttore sportivo Loizzo della Paolana. Direttore, oggi il suo organico mi sembra abbia portato meritatamente tre punti meritati a casa. È l'inizio di un nuovo campionato per la Paolana? Ma veramente l'inizio di un nuovo campionato io l'ho già riscontrato, anche essendone sconfitto sul terreno di Acre. Ad Acre noi abbiamo fatto un'ottima partita, non meravamo assolutamente la sconfitta, però ne abbiamo preso atto. Siamo ripartiti domenica scorsa col Soriano, al 94esimo eravamo in vantaggio. Solita distrazione difensiva, abbiamo subito il pareggio del 2-2. Oggi finalmente ci siamo espressi come io credo che la mia squadra debba esprimersi e abbia tutte le caratteristiche e i mezzi per esprimersi come oggi. Siamo con il direttore Cuzzola della Regione Mediterranea. Direttore, è un risultato che non ci si aspettava, ma non solo per un discorso di classifica, perché anche se la Paolana aveva prima di questa partita 10 punti in meno di voi, comunque per come stava andando il campionato, bene o male, anche se ha avuto dei passi falsi, in Regione Mediterranea in casa si è sempre fatto rispettare. Sì, sì, hai ragione perché qualcosa è successo, quindi noi come società siamo consapevoli che dobbiamo intanto essere compatti e cercare di capire perché questa involuzione, che per noi è ingiustificata. È importante capire, perché come dicevi tu giustamente prima, in casa non passava nessuno e adesso non vinci fuori casa, però in casa inizia a zoppicare, quindi dobbiamo capire cosa sta succedendo a questa squadra. Forse sette gol in due partite sono tanti? Sono tantissimi, sono tantissimi perché la nostra era una difesa che era imperforata, insomma. È vero che non segnavamo, però gol non ne prendevamo tanti. Mestri Anni, forse il risultato che non ci si aspettava, non tanto per il valore della Paolana, ma per il discorso di classifica che comunque vi vedeva avanti di dieci punti e anche perché comunque, nonostante la sconfitta della scorsa settimana nel derby con il Gallico Catona, Regione Mediterranea sembrava senz'altro più in forma della Paolana. Invece oggi è una partita che forse non si aspettava neanche lei? No, è una partita che è iniziata in maniera molto blanda, poi hanno trovato un gol su una disattenzione difensiva, ma secondo me il dato che ci ha penalizzato è stato il secondo gol, qualcosa di inqualificabile nel gioco del calcio, quando una palla normale passa tra il giocatore che c'è sul palo su un calcio d'angolo e quella di tre metri e non viene toccata, cioè dire, tipo lasciarla passare che vai sul fondo, una cosa inqualificabile nel gioco del calcio, lì un attimino siamo andati fuori con la mente, però dobbiamo guardare la realtà, dobbiamo guardare i fatti, dobbiamo guardare la concretezza delle situazioni, le situazioni in questo momento dicono che c'è un periodo, una problematica negativa che dove non è, veniamo da due sconfitte adesso, quella di domenica e quella di oggi, non è una cosa drammatica, però è da mettere con i piedi per terra, io mi auguro di trovare io la soluzione con i ragazzi, se la società ritiene opportune invece trovarla diversamente, io sono disponibile a qualsiasi cosa, l'importante è il bene della legge mediterranea.